Sarà ancora una volta il lungomare partenopeo ad ospitare dal 6 all'11 settembre la nuova edizione del Napoli Pizza Village. È la manifestazione culinaria più attesa dell'anno che accoglie al rientro dalle vacanze migliaia di cittadini e turisti che alla pizza non riescono proprio a dire di no. Il format è quello di sempre, 50 forni delle migliori pizzerie saranno allestiti vicino al mare, oltre 23.000 ai posti a sedere ed ingresso gratuito dalle 18 alle 24. Il menu completo al costo fisso di 12 euro comprende pizza, bibita, caffè, dolce o gelato e si potrà acquistare anche online sul sito pizzavillage.it per evitare lunghe code alle casse. I pizzaioli napoletani non faranno mancare la loro solidarietà alle popolazioni colpite dal terremoto. Ci sarà un apposito menu che include una pizza alla matriciana, il cui incasso sarà in parte devoluto alla protezione civile o alla Croce Rossa. Il centro di questo evento sarà appunto la pizza solidale e credo che in questo modo tra l'altro noi esprimiamo uno dei tratti fondamentali di questo alimento che è la pizza. Perché io sottolineo sempre che la pizza ha un carattere molto glocal, cioè è molto locale ma è molto criticamente globale, perché la pizza è un alimento comunitario, nel senso che è qualcosa che prevalentemente si consuma insieme, un'occasione di incontro, un'occasione di socializzazione. In programma durante i sei giorni dell'evento anche la quindicesima edizione del campionato mondiale del pizzaiolo Trofeo Caputo ed un ricco calendario di spettacoli, musica e intrattenimento. Tra gli ospiti sul palco del Pizza Village, il poliedrico Teo Teocoli, Alan De Luca e Lino D'Angio, Gigi e Ross di Made in Sud e di cantanti Ron e J-Ax. Da quest'anno, se vogliamo essere sintetici, possiamo dire che la vera novità è l'NPV Experience, cioè trasformare un evento che vive nei sei giorni in via Caraccio in un evento diffuso, fatto di tante altre iniziative che troveremo nel corso dell'anno e quindi vivo per 365 giorni all'anno nella nostra città, all'estero, in Italia, che quindi vedranno Napoli Pizza Village non più un evento statico, ma un evento molto dinamico. Il Pizza Village in questo momento è un fronte importante di battaglia per sostenere la candidatura dell'arte dei pizzaioli napoletani a patrimonio immateriale dell'umanità.